Benvenuti sul nostro canale! Oggi abbiamo delle notizie bomba che vi lasceranno senza parole. Parliamo di uomini e donne e di una rivelazione che ha scioccato tutti. Mario ha fatto una confessione incredibile su Ida. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli. Prima di tutto, facciamo un passo indietro. Se seguite Uomini e Donne, sapete bene che il Trono Over è sempre pieno di colpi di scena e drammi. Ma questa volta Mario ha davvero superato ogni aspettativa con la sua rivelazione. Chi è Mario? E soprattutto cosa ha detto su Ida? Per chi non lo sapesse, Mario è uno dei cavalieri più controversi del programma, sempre al centro di discussioni e polemiche. Ida, d'altra parte, è una delle dame più amate, con una storia personale che ha toccato il cuore di molti telespettatori. E ora, arriviamo al momento clou. Durante l'ultima puntata, Mario ha preso il microfono e ha detto qualcosa che nessuno si aspettava. Con uno sguardo serio e deciso, ha rivelato, Ida ha. Ma cosa ha detto esattamente Mario? Siamo qui per svelarvelo. Mario ha dichiarato che Ida ha un segreto che nessuno conosceva. Lei ha mantenuto nascosto un aspetto importante della sua vita personale che potrebbe cambiare tutto. Ma di cosa si tratta? Scopriamolo subito. Secondo Mario, Ida avrebbe nascosto di aver avuto un legame speciale con una persona fuori dal programma. Questo legame avrebbe influenzato molte delle sue decisioni e comportamenti all'interno di uomini e donne. Un colpo di scena che nessuno aveva previsto. Le reazioni nello studio sono state immediate e intense. Molti hanno espresso sorpresa e incredulità, mentre altri hanno iniziato a collegare i puntini e a capire meglio alcune delle scelte di Ida. Ma quali sono state le conseguenze di questa rivelazione? Ida ha risposto con fermezza, difendendo le sue scelte e spiegando il suo punto di vista. La situazione si è scaldata rapidamente, con discussioni animate tra i partecipanti e il pubblico. La confessione di Mario ha sicuramente scosso gli equilibri del programma, portando a nuove dinamiche e possibili sviluppi che potrebbero cambiare il corso della stagione. Questo è tutto per oggi. Che ne pensate della rivelazione di Mario? Credete che Ida abbia fatto bene a mantenere il suo segreto? Lasciateci un commento qui sotto e fateci sapere la vostra opinione. E non dimenticate di mettere un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi nessuna delle nostre prossime notizie su Uomini e Donne.